E' guidata dall'amore? Ma domandiamoci adesso, e questo è il mondo in cui viviamo? Il creato conserva la sua bellezza che ci riempie di stupori. Quindi rimane un'opera buona, ma ci sono anche la violenza, la divisione, lo scontro, la guerra. Questo avviene quando l'uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l'orizzonte della bellezza e della bontà, e si chiude nel proprio egoismo. Quando l'uomo pensa solo a sé stesso, ai propri... Quando si lascia affascinare dalle idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, Allora, guasta tutte le relazioni, rovina tutto, e apre la porta alla violenza, all'indifferenza e al conflitto. Esattamente questo è ciò che vuole farci capire il brano della Genesi, in cui si narra il peccato dell'essere umano. L'uomo entra in conflitto con sé stesso, si accorge di essere nudo e si nasconde perché ha paura, ha paura dello sguardo di Dio. Accusa la donna, con lei che è carne della sua carne, rompe l'armonia con il creato, arriva ad alzare la mano contro il fratello per ucciderlo. Possiamo dire che dall'armonia si passa alla disarmonia? Possiamo dire questo, che dall'armonia si passa alla disarmonia? No! Non esiste la disarmonia. O c'è armonia, o si cade nel caos, dove violenza contessa contro paura. Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza dell'uomo dove è Abele, tuo fratello. E Caino risponde, non lo so, sono forse io il custode del mio fratello? Anche a noi è rivolta questa domanda e anche a noi farà bene chiederci, sono forse io il custode del mio fratello? E invece sì. Sì, tu sei il custode del tuo fratello. E uno di noi. Essere persona umana significa essere custodi le uni delle altre. Bravo, bravo. E invece, quando si rompe l'armonia, succede una metamorfosi. Il fratello da custodire e da amare diventa l'avversario da combattere, da sopprimere. Quanta violenza avviene da quel momento, quanti conflitti, quanti guerre hanno segnato la nostra storia. basta vedere la sofferenza di tanti fratelli e sorelle. Non si tratta di qualcosa di cogiunturale, ma questa è la verità. in ogni violenza e in ogni guerra noi facciamo rinascere Caino. Noi tutti. E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli. Anche oggi alziamo la mano contro chi è il nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dalle idoli, dall'egoismo, dai nostri interessi. E questo atteggiamento va avanti. Abbiamo perfezionato le nostre armi. La nostra coscienza si è addormentata. Abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per giustificarci. Come se fosse una cosa normale. Continuiamo a seminare distruzioni, dolori, morti. La violenza e la guerra portano solo morte. Parlano di morte. La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte. Dopo il caos del diluvio ha smesso di piovere. Si vede l'arcobaleno e la colomba porta un ramo di olivo. Penso anche oggi a quell'olivo che i rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a Buenos Aires, in piazza di maggio nel 2000, chiedendo che non sia più caos, chiedendo che non sia più guerra, chiedendo pace. e a questo punto mi domando è possibile percorrere la strada di la pace? possiamo uscire possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? invocando l'aiuto di Dio sotto lo sguardo materno della Sala dei popoli romani regina della pace? voglio rispondere sì è possibile per tutti questa sera vorrei che da ogni è possibile per tutti anzi vorrei che ognuno di noi dal più piccolo al più grande fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni rispondesse sì lo vogliamo la mia fede cristiana mia fede cristiana mi spinge a guardare alla croce come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla croce lì si può leggere la risposta di Dio lì la violenza non si è risposto con violenza alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte nel silenzio della croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione del perdono del dialogo della pace vorrei chiedere al Signore questa sera che noi cristiani e i fratelli di altre religioni ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza la violenza e la guerra non è mai la via della pace ognuno ognuno si anima a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che dice esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore supera l'indifferenza verso l'altro che rende insensibile il cuore vince le tue razioni di morte e apriti al dialogo alla riconciliazione guarda al dolore del tuo fratello penso ai bambini soltanto a quello guarda al dolore del tuo fratello e non aggiungere altro dolore ferma la tua mano ricostruisce l'armonia che si è spezzata e questo non con lo scontro ma con l'incontro finisca finisca il rumore delle armi la guerra segna sempre il fallimento della pace è sempre una sconfitta per l'umanità risuonino ancora una volta le parole di Paolo VI non più gli uni contro gli altri non più mai non più la guerra non più la guerra la pace la pace si afferma solo con la pace la pace si afferma solo con la pace quella non si giunta dai doveri della giustizia ma alimentata dal sacrificio proprio dalla clemenza dalla misericordia dalla carità fratelli e sorelle perdono dialogo riconciliazione sono le parole della pace nella matta nazione siriana nel medio oriente in tutto il mondo preghiamo questa sera per la riconciliazione e per la pace lavoriamo per la riconciliazione e per la pace e diventiamo tutti in ogni ambiente uomini e donne di riconciliazione e di pace così sia grazie